La prestazione della motivazione dell'assistenza che ha disposto a un nuovo processo Ecco come non ci trova più Francesco C'è una cosa rara Cosa? Chi è? Non te la vorrei Ehi, soffia Tu le piatti? Mi? Mi sono piatti Tu le piatti? Mi? Scusate No, aspetta Non soffiare No, prima cantare No, no aspetta Che ci aiuta la torta del coronavirus Che è la cosa Ok Tieni Scusate 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti